Il sole sorge nello studio 1 di TV2000 in questo giovedì 9 febbraio, un buongiorno a voi che ci seguite da casa e un buongiorno a te Antonella. Buongiorno a te Giacomo, buongiorno a tutti quanti voi. Lo vedete alle nostre spalle, il logo di TV2000 oggi aggiunge qualcosa in più perché è una giornata speciale. Oggi sono 25 anni dall'inizio di questa splendida avventura che è TV2000 che entra tutte le mattine nelle vostre case insieme a noi, infatti siamo contenti di dare l'inizio a questa giornata. 25 anni da vivere insieme, sarà una giornata lunga ma ci saranno delle sorprese. E naturalmente per un compleanno che si rispetti ci vogliono dei fiori, una composizione di fiori che facciamo, che faremo in onore non solo di TV2000 ma della festa degli enamorati che si avvicina. E se parliamo di fiori in questa settimana non possiamo che parlare anche di Sanremo e andremo da Francesco Durante che si trova proprio là. E poi una storia bellissima, quella di Valentina, Sirio e tutta la loro famiglia, una storia che ci porta alla gioia, quella vera, quella del godere delle piccole cose. Valentina è la mamma di Sirio, lui è Sirio, impareremo a conoscerlo e impareremo a capire come nonostante tutto il sorriso di Sirio riesca a contagiare veramente tutti e contagiere anche voi. I fiori ci chiamano Antonella, andiamo quindi al tavolo, andiamo insieme a voi pronti a mettere le mani, non nelle spine, ma nei fiori con Adrià in Monaco. Buongiorno, 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 eccoci. Che bello, stamattina una composizione dedicata agli innamorati e non solo. Agli innamorati e non solo, infatti, allora io ho portato dei fiori tra l'altro non solo rossi, ovviamente che è il classico colore di San Valentino, ma anche color magenta che è il colore di quest'anno. Quindi saremo alla moda. Quindi saremo assolutamente alla moda. Allora, io ho pensato di fare una composizione in un vaso di vetro trasparente, anche per fare qualcosa, diciamo, di diverso. Ovviamente l'alternativa possono essere le classiche scatole rosse, a cuore ovviamente, visto che siamo appunto nel tema di San Valentino. Però insomma, direi di procedere. Iniziamo, noi guarda siamo i tuoi assistenti stamattina. Le quattro mani a disposizione. Allora, in genere, quando faccio delle composizioni, ovviamente utilizzando delle spugne bagnate, queste sono le spugne per l'umido e queste invece sono spugne per il secco che non vanno bagnate. Quelle per l'umido ovviamente bagnate. Ed io non sapevo già che c'era una differenza. C'è una differenza. Per esempio queste che sono delle rose bellissime, stabilizzate, non sono finte ma sono stabilizzate, si utilizza questa tipologia di spugna. Cioè, la usiamo solo da aggancio ma non serve come idratazione del fiore. Solo da aggancio perché non va bagnata, infatti, è un pochino più porosa e chiaramente tiene meglio il fiore. Però adesso, per questa composizione, utilizziamo appunto una spugna che va imbevuta nell'acqua. In realtà questa spugna andrebbe imbevuta per parecchio tempo, nel senso che almeno un'oretta dovrebbe stare in ammollo. Per chi volesse rifarlo a casa. Per chi volesse rifarla a casa. Ovviamente noi qui, anche per evitare di rovinare tutto, lo facciamo in diretta, infatti. Allora, l'importante è mettere sempre una base, diciamo, di, io uso il celofana appunto perché altrimenti poi si bagna e si bagna anche questo lichene che io andrò a mettere intorno. Magari procedo, procedo, allora io direi di sì, ma magari tipo biscotto nel latte, come se fosse un grande cappuccino. Bravissimo, allora io intanto taglio il celofana. Io invece tengo di qua, guarda quanto siamo bravi come assistenti. Infatti bravissimi. Ok, utilizziamo soltanto questo che lo mettiamo appunto come base. Poi tagliamo ovviamente l'eccesso. E nonostante una grandissima maestria e abitudine a quello che è il lavoro della composizione del latte floreale, tu di base nasci in maniera completamente diversa. Completamente diversa. Guarda Giacomo come cerca di immaginare l'acqua. Adrienne, ce la posso versare un po' sopra quella brocca? Io direi di sì, anche perché forse è un pochino piccolo per la grandezza della spugna. Esatto, allora gli facciamo un po'. Va bene, sì, ma tanto è solo per dimostrazione, diciamo. Sì, io in realtà per 25 anni ho fatto l'avvocato. Poi durante il periodo del lockdown ho dato, diciamo, seguito a quella che è stata sempre una mia passione, cioè l'allestimento dei fiori. Facevo centrotavola in occasione di cene. Grazie, anche per gli amici. E quindi con una mia amica, che è la mia socia, ci siamo dette perché non cominciamo a fare qualcosa anche semplicemente facendo una pagina Instagram. Insomma è nato un po' per scherzo, scusate, apro e chiudo parentesi, vedete che la spugna non si è rimasta asciutta. È rimasta asciutta perché non l'abbiamo asciutta. Perché ci vuole quella maestria. Ci vuole quella maestria. Ora, per esempio, qui è poca, quindi possiamo utilizzare un pezzo di questa. L'importante è mettere sempre una base, no? Quindi mettiamo questa sotto. E quindi sì, è nato come divertimento, diciamo, come diletto. E poi invece ha avuto un seguito. Ha avuto un seguito questa... Ha avuto un seguito, adesso è diventata una vera professione. È diventata una vera professione, assolutamente. e noi lavoriamo molto con... Dovremmo avere, tra l'altro, eccole qua. Queste che vediamo sono alcune composizioni che hai realizzato tu, che avete realizzato voi. Sì, queste sono noi di L'Addecor. Sì, sono delle composizioni che sono, ecco, ovviamente in occasione del Natale, in occasione di eventi. Lavoriamo molto con l'Istituto Svizzero. E quindi facciamo, appunto, allestimenti per matrimoni, per feste. Partecipate alle cose belle della vita, mettiamola così. Partecipiamo, sì, alle cose... Alle momenti belli, per fortuna, sì. Allora, ecco, intanto, vedete, io sto mettendo questo lichene e tutto intorno, per evitare quello che dicevo, no? Che si vede, appunto, la spugna. Quindi lo metto tutto quanto intorno e dà un effetto molto carino, secondo me. In alternativa all'ichene si potrebbe utilizzare anche, per esempio, delle foglie, no? Che vanno, appunto, messe tutte quante intorno. In questo, vabbè, naturalmente, fiori e quant'altro sappiamo dove possiamo reperirli. Facendosi una passeggiata in un bosco, magari può venire qualche... Uno può vedere qualche muso, qualche foglia, qualche cosa che magari fornisce un'ispirazione. Certo, quello sicuramente. La natura ci fornisce sempre delle fantastiche ispirazioni, assolutamente. Tra l'altro, in alternativa, per esempio, a questo muschio, si può utilizzare anche... Questo è lichene, in realtà, anche il muschio. Quello classico del presepe, diciamo. Nel periodo, per esempio, natalizi, sì, è molto carino utilizzare il muschio. Stiamo vedendo ancora delle composizioni che ci portano, appunto, al tuo lavoro e abbiamo detto tu ti occupi anche di eventi. Ma è vero che in questo periodo, soprattutto negli ultimi anni, c'è un ritorno alla semplicità, alla normalità, ai fiori di campo, ai fiori freschi. Il meno è meglio, diciamo, come dicono gli inglesi. Sì, è verissimo, tant'è che è una cosa che ho notato, che piace moltissimo, appunto, l'allestimento fatto in questi vasi di vetro, che magari hanno vari diametri e varie altezze, con dei fiori di campo, cioè fare dei runner molto lunghi, con varie, appunto, altezze, varie fiori, ed è una cosa che viene molto richiesta. Non so se tra le foto che sono scorse ce n'era una che abbiamo fatto in occasione di una festa di compleanno, devo dire, molto carina, con i palloncini e tutto, e questi cilindri con i fiorellini sopra. Adesso la recuperiamo sicuramente. Sì, allora, io intanto, poi proseguo nella parte di dietro, diciamo. Io mi sto adoperando qui con i fiori? Sì, sì, va benissimo. Cioè, se ti serve qualcosa anche qua. Allora, io partirei mettendo prima delle rose. Classiche rose. Delle classiche rose. Non grandissime. Ovviamente vanno, grazie, vanno pulite, tagliate. Io tolgo sempre anche le foglie. Ok, quindi ti aiuto. Per il preferisco, insomma, sì, sì. E poi comincio a dare una forma. È chiaro che poi... Molto sarà della creatività del momento. Della creatività, insomma, quello che si vede all'inizio sembra sempre un po' così, poco... Però è anche questa la bellezza, perché le cose belle si creano, si creano pian piano anche con l'immaginazione. E allora, immaginatevi come diventerà questa composizione fra poco. Noi ce ne andiamo in pubblicità, dopo continueremo a parlare di fiori e andremo anche nella città dei fiori. Sarremo a fra poco. L'avete visto anche nella nostra pubblicità. Nella giornata speciale di oggi del compleanno di TV2000, noi vogliamo festeggiarla anche insieme a degli amici. Ci spostiamo verso il centro dello studio per dare il buongiorno e il benvenuto a Di Buon Mattino a Valentina Perniciano. Buongiorno Valentina e grazie per essere con noi stamattina. Buongiorno a voi e grazie dell'invito. Buongiorno Valentina. Allora, noi ci accomodiamo perché alcune storie necessita di essere seduti, tranquilli, insomma, e di raccontarle per bene. Perché raccontare la storia tua è raccontare la storia di Sirio, del piccolo Sirio, nato nel 2013. Abbiamo intravisto prima, nelle foto che passavano stamattina, quando abbiamo raccontato il menù della giornata, il volto di Sirio, il volto luminoso di tuo figlio. E per raccontare la vostra storia ripartiamo da chi è Sirio. Allora, Sirio è un bambino attualmente di nove anni che si sta svegliando per andare a scuola un po' in ritardo. Quindi un bambino come gli altri che sta andando a una normale giornata di quarto elementare. Un bambino che però dopo essere nato sano ha avuto un arresto cardiaco, quella che normalmente chiamiamo una morte in culla, che noi genitori siamo riusciti a riprendere per i capelli, per il rotto della cuffia. E quindi poi un bimbo ristabilizzato in una terapia intensiva è dichiarato uno stato vegetativo. Era quello, diciamo, il futuro che ci avevano preventivato i medici che per primi hanno salvato la sua vita. Un futuro, insomma, non cosciente e non presente che invece lui ha ribaltato passo passo all'inizio in una neuroriabilitazione dove siamo rimasti per un anno e poi inserendosi e cominciando ad essere parte della società malgrado i suoi bisogni più che complessi. Insomma, è un bimbo tracheostomizzato, è un bimbo con una gastrostomia, insomma con una disabilità estremamente complessa che colpisce più punti del suo corpo e malgrado questo insomma riesce, cerca con gli aiuti che siamo riusciti ad ottenere e con le figure specifiche adatte a far parte della società ed essere parte attiva della sua vita come prima cosa. Valentina, tra poco capiremo anche come ci siete arrivati, quello che significa per voi essere non solo genitori ma anche infermieri talvolta però tu l'hai detto e nel libro viene anche raccontato bene, Sirio nasce in uno stato di normalità, poi dopo qualche giorno avviene questa morte in culla come viene definita appunto. C'è un momento specifico in cui tutto sembra andare veramente storto, cioè la corsa in ospedale, il fatto che la macchina che non vi abbia mai abbandonato proprio quel giorno decide di fermarsi, i secondi che sembrano immagino infiniti e soprattutto quello che tu dici è Io l'ho avuto a casa per otto giorni, otto giorni di normale felicità, della felicità di una mamma che porta a casa un bimbo e ancora me la ricordo quella felicità come ricordo al contempo quegli attimi in macchina in cui andavamo in ospedale. Certo, è cambiato tutto da quel momento, il concetto di felicità l'abbiamo completamente dovuto riscrivere, Sirio era un bimbo nato prematuro che aveva passato i suoi primi 40 giorni in ospedale, quindi avevamo faticato questo ritorno a casa di un bimbo sano che doveva solo crescere, che aveva un fratello a casa che lo aspettava da tempo e quindi è stata una serenità familiare tanto attesa che ovviamente è stata sventrata in pochi secondi, secondi che sono durati anni, nel senso che poi è stata una situazione che è ancora estremamente complessa, che lo sarà per sempre, quel giorno ha cambiato per sempre le nostre vite, ha cambiato soprattutto la vita di Sirio e la sua possibilità di essere libero nel mondo. Sirio ha bisogno di aiuti specifici e professionali per ogni sua funzione vitale, malgrado la sua autonomia innata e il suo carattere forte, comunque appunto le prime battaglie che abbiamo fatto sono state proprio quelle per l'assistenza domiciliare, l'assistenza infermieristica, per riuscire anche ad alleggerire un carico di lavoro immenso che è dato solo ed esclusivamente ai caregiver, quindi a noi genitori, a coloro che danno assistenza continuativa H24 a un familiare di primo grado, ecco un qualcosa di insostenibile per anni in situazioni complesse come le nostre, quindi ovviamente le prime battaglie per l'autonomia di Sirio sono state le battaglie per avere le figure giuste, quelle che poi crescendo come persone e come fondazione, come tetrabondi, abbiamo cercato di rendere universali, di rendere battaglie che tutti conoscano, come si devono conoscere i bisogni di questi bambini per avere più dimestichezza nell'averli a fianco, per non rimanere spaventati dalla complessità delle vite diverse dal normale e soprattutto per avere una società che riesce a garantire la possibilità di essere autonomi, malgrado il bisogno di aiuto, Sirio come vedete da queste immagini si destreggia nella lettura, nella scrittura, nei rapporti con le altre persone, è ovvio che c'è un lavoro immenso dietro, è un lavoro immenso che non può essere fatto solo dalla famiglia perché non ce la fa, perché sarebbe parziale, perché nessuno di noi ha gli strumenti per diventare tutte le cose che si deve diventare per riuscire ad affiancare queste vite, quindi infermieri, animatori, logopedisti, noi caregiver diventiamo tante cose che non sappiamo essere e malgrado lo facciamo abbastanza bene e che abbiamo appunto bisogno di essere affiancati, loro hanno bisogno di avere le figure adatte anche per staccarsi da noi genitori, qui lo vedete in una recita a scuola, insomma per essere parte della loro vita, della loro società, Sirio attualmente insomma da qualche anno comunica con la lingua dei segni, sta imparando la lingua dei segni, qui vedete uno spettacolo scolastico dove anche i suoi altri compagni parlano la stessa lingua, stanno imparando la lingua dei segni, quello che conta nella disabilità complessa è avere una comunità intorno parlante, avere una comunità intorno capace di capire quali sono i bisogni, di relazionarci, è inutile imparare una lingua dei segni se non c'è una comunità con cui parlarla e quindi quello stiamo cercando di costruire con il sogno dei tetrabondi, con la storia di Sirio, con l'essere diventati pubblici e quindi aver raccontato sui social la nostra storia. A questo proposito Valentina voglio fare vedere, questa che possiamo vedere è proprio la pagina Instagram tetrabondi dove si può vedere appunto Sirio e i tetrabondi, mi chiamo Sirio Pessichetti, sono un bambino con una diagnosi di tetra parese che prova a conquistare comunque la libertà e in questa pagina, non so se riusciamo a vederla grazie all'aiuto della regia, eccola qua, è possibile vedere ciò che avete scelto di rendere pubblico, di rendere partecipato perché è proprio anche una scelta quella della condivisione in rete delle esperienze che come tetrabondi e come possibilità appunto di condivisione avete trovato un canale che non solo vi ha reso, ha dato ad altre persone la possibilità di vedere che cosa accadeva nella vostra vita, ma ha anche, come dire, dato se non speranza ma una maggiore condivisione di tutto questo? Certo, certo, diciamo che la scelta iniziava un po' per gioco, un po' per insomma compiere una piccola battaglia di presenza, dire ci siamo anche noi, quelli storti, quelli che sbavano, quelli sbilenchi, no? Quelli che affrontano la loro vita con infiniti bisogni e con lo stesso però diritto di essere felici, di costruire la propria felicità, quindi questo gioco e la risposta che poi c'è stata nel nostro iniziare questo racconto ci ha fatto capire che c'era proprio necessità di raccontare la disabilità con altre parole, un po' più irriverenti, un po' più dirette, abbattendo un po' quel pietismo e quella retorica che non aiuta, non aiuta i bambini con disabilità, non aiutano i genitori a uscire da meccanismi di segregazione, no? Di totale annullamento nella cura di una persona, noi vogliamo riconquistare le strade, rifar capire alla società come è un bisogno collettivo quello di conoscere le vulnerabilità e l'unico modo per superare, no? Per riuscire a entrare in un tessuto relazionale e sociale è quello di mescolarsi, è quello di far conoscere i bisogni, permettere finalmente dopo secoli di togliere le paure, togliere quello che ha sempre fatto nascondere i corpi non conformi e non parliamo delle menti non conformi, no? Tenerli sempre lontani, fuori dalle mura della città, ecco noi con il sogno dei detrabondi vogliamo fare il contrario, creare un piccolo esercito sbilenco che invece si riapprovi delle strade, dell'idea che tutti sono felici, tutti hanno il diritto di essere felici, tutti messi nelle condizioni di essere loro stessi, di scegliere la loro vita, possono costruire la loro felicità a prescindere dalle loro competenze fisiche, motorie e mentali, no? Quindi è una battaglia di diritti che abbiamo deciso di appunto costruire da una storia personale per trasformarla in una storia politica, tra virgolette, in un percorso collettivo che costruisca cambiamento, quindi la fondazione nasce con questa idea un po' romantica, insomma di costruire veramente un mondo di tutti incapace a segregare, la segregazione purtroppo è una parola che fa parte della vita dei caregiver, della vita delle disabilità complesse, si va sempre più a sparire dalla società, c'è solo la scuola che accoglie questi nostri figli, non vengono mai immaginati come adulti, come uomini, come persone che dovranno far parte di tutte le fasi della vita, hanno il diritto di crescere, di non essere visti solo come questi bimbetti speciali che retoricamente accarezziamo sulla testa e poi da adulti non vediamo più. Valentina, questo arriva anche alla nascita di questo libro che è appunto Ognuno ride a modo suo, storia di un bambino irriverente e sbilenco che è proprio il vostro libro, io lo dico vostro anche se ovviamente la firma è tua, tra l'altro con la copertina di Zero Calcare e con tutto l'aiuto immagino della fondazione Tetrabondi, proprio per dare la possibilità a tutti, a chi non è sui social, a chi invece lo vive quotidianamente, a chiunque di accedere alla storia di Sirio e non solo di Sirio perché poi c'è anche Nilo, c'è anche tuo marito, ci siete veramente tutti raccontati in questo libro? Ci siamo tutti, ci sono i tanti altri bambini, famiglie che abbiamo incontrato, è una storia corale, è una storia che racconta la neuro-riabilitazione, questo mondo che noi abbiamo soprannominato il mondo dei geppetti, questi falegnami che cercano di trasformare da tronchi di legno immobili dei bambini, loro li vedono già, quindi anche raccontare questi mondi sconosciuti che spesso si incontrano solo in momenti drammatici e invece sono una grande porta per aprire la conoscenza sui bisogni, sulla bellezza dei bisogni e il diritto ad esprimere le proprie necessità e avere una risposta sociale, collettiva, quindi sicuramente il libro è un modo per uscire dai social come l'è stata la fondazione Tetrabondi, per cercare un po' di spersonalizzare da Sirio l'attenzione e renderla corale, collettiva, far capire che insomma questo bimbetto disegnato da zero calcare è uno dei tanti che ha bisogno di riprendersi le strade, insomma cerchiamo di raccontare sempre meno Sirio e raccontare la banda dei Tetrabondi che è tanta, è storta, è sconosciuta, è chiusa in casa e spesso non accede neanche a scuola perché non ci sono le figure adatte e quindi invece ha necessità di riconquistare il diritto di essere in mezzo agli altri. Valentina, allora grazie per esserti svegliata a quest'ora del mattino e per averci aperto il mondo di Sirio e dei Tetrabondi, grazie per essere stata con noi un saluto naturalmente a voi e a Sirio e a Nilo. Grazie a voi, grazie dell'ospitalità. Buona giornata. Ciao Valentina, buona giornata, buona giornata a voi. 7.58, sarà una buona giornata parlando di meteo su tutto lo stivale, lo scopriamo subito con il nostro meteo. Buongiorno al luogotenente Fabio Rossi, a lei la parola. Buongiorno e ben ritrovati all'appuntamento con il meteo. Diamo subito uno sguardo alle immagini che ci giungono dal satellite per capire cosa sta succedendo in queste ore sul nostro paese. Delle correnti ancora fredde e di origine polare provenienti da Balcani interessano l'Italia centro-meridionale soprattutto sulla parte atriatica, mentre la tempesta denominata Helios SA in queste ore interessando la Sicilia e la Calabria. L'interazione tra queste due masse d'aria con caratteristiche fisiche completamente diverse determina una marcata instabilità soprattutto sull'estremo sud. Ma andiamo con ordine, con l'aiuto della grafica, vediamo cosa succederà nelle prossime ore sul nostro paese. Al nord avremo generali condizioni di cielo sereno, al più poco nuvoloso, eccezione fatta per locali annuvolamenti sulle Alpi Vemontesi, su quelle Lombarde e sulla Romagna. Annuvolamenti che comunque nel corso della giornata tenderanno rapidamente a diradarsi. Al centro avremo della nuvolosità piuttosto compatta sulle regioni adriatiche con precipitazioni che potranno assumere carattere nevoso fino a quote molto basse. Sul resto del settore nuvolosità iniziale in graduale diradamento con ampie schiarite tra pomeriggio e sera sulla Toscana, sull'Umbria e sull'Alto Lazio. Al sud avremo condizioni di cielo molto nuvoloso o coperto con precipitazioni che sulla Sicilia e sulla Calabria saranno a prevalente carattere di rovescio o temporale e proprio su queste due regioni avremo i fenomeni più intensi che potranno assumere anche carattere localmente di eccezionalità. Avremo anche delle nevicate fino a 600-700 metri di quota mentre sul resto del settore delle piogge sparse e delle nevicate fino a quote appenniniche eccezion fatta per la Puglia e fenomeni nevosi che risulteranno meno frequenti sulla Sardegna. Passiamo ai mari che risulteranno generalmente agitato lo ionio e il basso tirreno mentre i restanti bacini risulteranno mossi o molto mossi. La ventilazione risulterà prevalentemente orientale sulla Sicilia e sulla Calabria tendente a divenire di burrasca con rinforzi fino a burrasca forte o tempesta. Sul resto del centro-sud la ventilazione risulterà settentrionale da debole a moderata mentre sulle rimanenti aree i venti saranno deboli e di direzione variabile. Un ultimo sguardo alle temperature che per quanto riguarda i valori massimi invece tenderanno a diminuire sulla Sardegna e sulle regioni settentrionali mentre sul resto del paese risulteranno stabili o in lieve rialzo. Bene, con questo io ho concluso. Grazie per l'attenzione e a risentirci con i prossimi appuntamenti. Grazie, luogotenente Fabio Rossi. A domani con gli aggiornamenti meteo. Vogliamo aprire una pagina di attualità che ci porta in Afghanistan e non solo nell'universo della condizione della donna. Lo facciamo innanzitutto dando il buongiorno e il bentrovato a Tiziana Ferrario, giornalista e scrittrice. Buongiorno Tiziana e grazie per essere con noi stamattina. Buongiorno a voi, grazie dell'invito. Iniziamo da te con, dicevamo, una pagina di attualità che ci porta in Afghanistan. Gli articoli, alcuni articoli di giornale che vedremo a seguito ci porteranno anche al 20 settembre 2021 quando alcune ragazze, eccola, sopra i 12 anni non possono più andare a scuola. L'università chiusa alle donne è una condizione complicatissima che tu racconti non solo nel libro La principessa afghana e il giardino delle giovani ribelli ma che hai raccontato anche nella tua vita di giornalista. Ma è una situazione terribile e per fortuna voi ne state parlando perché non ne stiamo parlando più, non se ne parla più però la condizione delle donne afghane è sempre più drammatica non solo perché questo è stato l'inverno più duro degli ultimi anni ha fatto molto freddo e c'è una crisi economica in Afghanistan terribile e la gente sta morendo di fame, i bambini muoiono anche per malattie molto banali che si potrebbero curare se ci fossero delle medicine ma le donne giorno dopo giorno hanno visto diminuire lo spazio proprio nella società afghana e quindi oggi non possono neanche più passeggiare nei parchi anche passeggiare per una donna è diventato pericoloso è un divieto, non possono uscire di casa se non sono accompagnate da un familiare uomo ma soprattutto non possono studiare e non possono lavorare neppure nelle organizzazioni umanitarie quindi questa è una situazione folle pensare di governare un paese come stanno facendo i talebani rinunciando a metà della propria popolazione è qualcosa che non fa nessun altro nel mondo nessun paese, neanche i più integralisti privano le donne dell'istruzione togliere l'istruzione a una ragazza significa toglierle il futuro significa far crescere comunque una mamma senza istruzione che non darà a sua volta le competenze necessarie ai figli che crescerà quindi è davvero qualcosa che hanno capito tutti i paesi che una donna dentro casa istruita comunque fa crescere anche il livello non solo economico ma anche culturale della propria famiglia e i talebani si sono dimostrati dei bugiardi quando sono tornati al potere nell'agosto del 2021 avevano detto di essere cambiati, di essere diversi che non avrebbero più privato le donne dei loro diritti ma probabilmente al loro interno non la pensano tutti allo stesso modo quindi abbiamo visto ci sono delle tensioni all'interno della componente talebana non sono un unicum e quindi sta prevalendo la componente più integralista che sta togliendo sempre di più respiro alle donne Tiziana, tu poco fa parlando della situazione non solo stai ritraendo quella che è appunto una situazione che si vive una quotidianità che si vive ma hai parlato anche di un rischio che è quello che appunto non ci sono riflettori nessuno ne parla il rischio dell'oblio come mai? Beh, l'Afghanistan abbiamo visto che è un paese che entra ed esce dalla storia e dai nostri giornali all'improvviso torna con prepotenza sulle prime pagine è successo durante l'invasione sovietica se vi ricordate e poi è successo con l'11 settembre quando a New York sono abbattute le torri gemelle si è poi saputo che l'ordine era partito da Bin Laden che era ospite in Afghanistan con la sua organizzazione terroristica al-Qaeda e poi siamo stati vent'anni con le truppe internazionali in Afghanistan e ce ne siamo andati con quel ritiro poco dignitoso che ci ricordiamo tutti con gli afghani che cercavano di aggrapparsi alle ali degli aerei pur di non restare lì ad aspettare la vendetta dei talebani perché avevano collaborato con noi occidentali quindi l'Afghanistan ogni volta ci ritorna dentro casa in questo momento ce ne stiamo dimenticando è chiaro noi ce ne siamo andati sconfitti e oggi tocca a qualcun altro cercare di capire come riportare quel paese in un contesto di comunità internazionale accettabile nessuno ha riconosciuto il governo dei talebani ma questo significa che la popolazione afghana vive in condizioni miserabili perché è difficile fare cooperazione con i talebani è difficile mandare aiuti umanitari e quindi quando Biden vi ricordate ha detto adesso questo è un problema delle potenze regionali se ne occupino loro e questo lo aveva detto anche Trump dopo quel drammatico accordo che gli americani hanno fatto con i talebani nel febbraio del 2020 decidendo il ritiro e di fatto dando una legittimità ai talebani che fino a quel momento erano stati considerati un nemico da combattere quando parli di autorità locali diciamo che non possiamo non far riferimento a tutto ciò che sta succedendo anche nella zona in generale nel Medio Oriente se le donne afghane comunque negli ultimi vent'anni avevano raggiunto un livello di autonomia avevano potuto acquisire dei diritti ovviamente cambiando i fattori e cose in ballo c'è anche tutta la protesta dell'Iran da tenere presente e che tra l'altro torna forse un po' di più rispetto all'Afghanistan nelle notizie dell'Occidente in generale non solo nel nostro paese beh io in questi mesi ho guardato con ammirazione il coraggio delle ragazze e anche dei ragazzi al loro fianco in Iran e per fortuna ieri sera dal palcoscenico di Sanremo abbiamo visto questo ricordare la battaglia delle ragazze iraniane che chiedono vita libertà e vogliono poter avere la possibilità anche loro di vivere in un certo senza proibizioni senza regole così rigide anche dell'Iran si sta parlando poco e devo dire che non è che siamo stati al fianco delle ragazze iraniane con determinazione qualcuno qualche politica si è tagliata qualche ciocca di capelli ma diciamo forse si potrebbe fare anche di più per le ragazze iraniane e quindi ieri sera io ho ascoltato questa ragazza italiana di origini iraniane che ha ricordato la battaglia che è in corso in quel paese e va bene farlo su un palcoscenico così importante così nazional popolare come è sempre stato Sanremo perché la battaglia delle ragazze iraniane anche quella non va dimenticata ci sono noi viviamo in un paese dove tutto molto concentrato sulle questioni della politica interna però poi all'improvviso il mondo ci entra dentro casa e scopriamo che esiste qualcosa fuori dai nostri confini un po' spesso troppo provinciali e dovremmo essere un po' più attenti al mondo che non significa non guardare a quelli che sono i nostri problemi ma significa inserirli sempre in un contesto più generale se questo grido che è stato appunto ripetuto anche ieri sera libertà libertà continua a essere giustamente nelle nostre orecchie e anzi deve esserci per farci rendere conto di quali sono le differenze anche con altre parti del mondo e che ciò che è scontato per noi non è assolutamente scontato per gli altri vogliamo parlare di coraggio posso aggiungere una cosa non deve essere scontato neanche per noi perché i diritti soprattutto per le ragazze per le donne sono sempre frutto di grandi battaglie e c'è sempre qualcuno che è pronto a rimetterle in discussione perché quando si tratta di donne e donne autonome indipendenti istruite non piacciono a tutti e quindi questo vale in tante parti del mondo noi come donne italiane abbiamo fatto un grande cammino 50 anni fa non eravamo al punto in cui siamo oggi però continuiamo a essere molto indietro e quindi oggi abbiamo dei diritti e li dobbiamo difendere una di queste donne non dobbiamo dare mai niente per scontato una di queste donne è Lidia Buticchi Franceschi ci vuoi parlare della bambina di Odessa beh ecco Lidia Buticchi Franceschi era una donna che credeva molto nei diritti credeva molto nella nostra Costituzione e quindi io ho pensato che la sua storia che è una storia incredibile sembra pazzesco che tutto quello che lei ha vissuto l'abbia vissuto una sola persona l'ho voluta raccontare perché è un esempio di grande resilienza di come davanti alle tragedie più dure della vita ci si possa sempre rialzare e raccogliere nuove sfide è stata un insegnante che credeva in una scuola aperta a tutti anche alle persone più svantaggiate in questo è stata rivoluzionaria perché appunto ha aperto la sua scuola negli anni 70 agli operai è stata una staffetta partigiana ma soprattutto è stata anche la mamma di Roberto Franceschi uno studente della Bocconi che nel 73 fu ammazzato durante degli scontri con la polizia davanti alla sua università tiziana diciamo che è una storia che come dici tu non sembra sembra un romanzo più che una storia vera sembra un film sembra un film lo ricordo ancora una volta la bambina di Odessa è uscito per Chiare Lettere di Tiziana Ferrario magari ci sarà occasione per riparlarne in futuro perché appunto ci sono queste battaglie che ci ricordano come anche noi non dobbiamo dare per scontato nessun tipo di diritto perché se lo abbiamo raggiunto qualcuno di noi si è battuto per esso prima grazie mille per essere stata con noi a Tiziana Ferrario ci rivediamo presto magari per parlare della bambina di Odessa ancora di più grazie a voi buona giornata a tutti buona giornata Tiziana noi andiamo in pubblicità ci ritroviamo fra poco sarà il momento di continuare a mettere le mani tra i fiori e andremo anche a Sanremo pubblicità nella settimana di Sanremo e piano piano avvicinandoci alla festa di San Valentino con Adrienne Monaco stiamo preparando una composizione floreale a tema San Valentino ma non solo perché usiamo fiori di diverse tipologie tipologie e colori noi ti avevamo lasciato con qualcosa che sembrava un po' un obrobrio e è diventata un capolavoro sì infatti ovviamente quando si inizia poi come dicevo accennavo prima io man mano che lavoro poi ovviamente riesco a dare una forma non riesco mai prima se non ovviamente l'accostamento dei colori e quindi intanto direi di andare avanti e di finire abbiamo messo una base di spugna intorno dei licari abbiamo messo sì intorno questi licani che tra l'altro questi licani si hanno di tantissimi colori si possono avere anche fucsia verde verde chiaro quante cose scopriamo stamattina insomma c'è tanto c'è tanto allora continua andare avanti Adrienne noi invece vogliamo andare nella città dei fiori a Sanremo dove ci aspetta per noi Francesco Durante per darci per illuminarci su quello che succede sulle novità Francesco a te buongiorno Antonella buongiorno Giacomo è qui nella città dei fiori io mi trovo proprio in un negozio di fiori con una fiorista che si chiama Patrizia da generazioni che significa fare la fiorista nella città dei fiori a Sanremo è bellissimo anche perché faccio un lavoro che mi piace appunto mio marito è nel mondo dei fiori da sempre perché il nonno coltivava i garofani la mamma e il papà erano uncoli, rose, strelizie poi sono arrivata io vent'anni fa e ho iniziato invece appunto visto che mi piace comporre mi piace lavorare con ho abbastanza manualità e quindi mi sono buttata anche io in questo mondo ed è bellissimo mi piace, è un lavoro che amo e lo faccio con passione un mercato che non è in crisi? no, no, no almeno per quanto riguarda il dettaglio no, non è in crisi anzi devo dire che da quando appunto c'è stato il covid probabilmente la gente ha vissuto di più la casa quindi compravano volentieri il mazzolino di fiori anche da portare a casa in un momento di lockdown che non si poteva fare niente quindi non è in crisi forse più il settore del floricoltore per quanto riguarda le serre, il gasolio, i riscaldamenti quello che è quello forse sì a differenza di vent'anni fa c'è stato un po' un crollo però per quanto riguarda invece il commercio al dettaglio, il negozio di fiori il fiore è sempre apprezzato anche perché comunque è un bene che tra virgolette tutti si possono permettere un mazzolino da 10, 15, 20 euro fa sempre piacere riceverlo e prenderlo per portarlo a casa fiori e naturalmente canzoni in questi giorni il festival di Sanremo prosegue ieri sera il secondo appuntamento con la Kermess Canora 14 gli artisti in gara ma oltre agli artisti in gara e i cantanti ci sono anche i musicisti e noi ne abbiamo intervistato uno, Fio Zanotti che è qui a Sanremo e di casa ma il festival è come dire io devo tanto al festival per mille motivi ovviamente la musica la musica che per me il mio pane, la mia vita come sempre è stato e come sempre sarà voglio dire le prime cose sono nate qua io ricordo diciamo diversi podi diverse canzoni che ho prodotto arrangiato addirittura composto che sono partite da qua quindi io al festival debbo veramente tanto io spero aumenti sempre la forza di questa manifestazione in tutto il mondo spero davvero quest'anno sei presente con qualche brano? sì ho scritto ho scritto arrangiato e prodotto il pezzo di Anna Oxa che è Sali, canto dell'anima è un pezzo che a me piace molto questi sono per lei grazie allora per concludere con fiori e musica grazie dei fiori signora Patrizia Antonella Giacomo da Sanremo è tutto a voi la linea grazie Francesco e un applauso dal nostro studio perché grazie dei fiori come ce lo canta Francesco Durante non ce lo canta nessuno qua con Andrea in Monaco abbiamo praticamente finito voglio ricordare la tua pagina Instagram eccola qua Lad Decor Your Moments è possibile appunto raggiungerla per vedere tutte le ispirazioni per raccogliere le informazioni che dai e mettersi in contatto con te per imparare ad essere veramente insomma dei veri e propri decoratori anche nel proprio piccolo a che punto siamo qui? abbiamo praticamente finito ovviamente c'è da aggiungere giusto qualche altro fiore però ecco insomma quello che dicevo inizialmente ecco un bel regalo per San Valentino la rosa c'è il fiore dell'anno il colore dell'anno c'è quindi mi sembra che insomma possa andare per essere apprezzato un ottimo regalo grazie grazie a voi grazie a voi per essere stata con noi buona giornata buona giornata e che bello veramente iniziare la mattina con i fiori con la bellezza di un campo fiorito delle cose più semplici del mondo assolutamente noi ci salutiamo ci vediamo ci ritroviamo dopo la Santa Messa sarà con noi Don Fabio Rosini per insegnarci come combattere nella vita quotidiana nella semplicità i pensieri maligni e poi e poi abbiamo detto che oggi è il compleanno di TV 2000 e noi vogliamo festeggiarlo tra l'altro nella settimana di Sanremo con la musica tornerà a trovarci Mario Incudine qui a Di Buon Mattino TG Flash Santa Messa e ancora noi Riprendo Di Buon Mattino in questa giornata speciale perché oggi ve lo ricordiamo si spengono 25 candeline e no non si tratta di Antonella né di me che di anni ce ne abbiamo 24 come ben sapete ma di TV 2000 da 25 anni insieme a voi e continuerà la nostra giornata ovviamente nel solco di questo compleanno che festeggeriamo insieme con tante sorprese che arriveranno nel corso della mattinata una tra tutte la andiamo ad accogliere al centro dello studio esatto andiamo perché quest'oggi c'è un libro che c'è in mano Antonella e arriva da noi l'autore di questo libro Don Fabio Resini in studio con noi quest'oggi buongiorno Don Fabio accogliamoci direttore del servizio per le vocazioni della diocesi di Roma Don Fabio l'arte della buona battaglia già il titolo ci dice tutto ognuno di noi combatte nella sua vita una battaglia tu hai sentito l'esigenza di mettere giù questi pensieri non solo tuoi ma ci racconterai meglio tra l'altro editi da San Paolo su come vivere questa buona battaglia innanzitutto esistono le battaglie sbagliate noi sappiamo che a parte le guerre che sono una triste notizia che ci invade la vita ma nella vita possiamo combattere battaglie molto sbagliate battaglie fuori luogo accanirci su cose che non sono assolutamente principali o non sono neanche vere o autentiche ecco c'è una buona battaglia questa buona battaglia implica la necessità di raggiungere la bellezza nella vita e vivere la vita grande buona e di questa buona battaglia parla San Paolo e di questa buona battaglia hanno parlato tutti i padri spirituali tutti i maestri spirituali c'è senza ombra di dubbio in noi una liberazione sempre in atto da tante trappole interiori che noi abbiamo ecco i maestri di questa battaglia erano i monaci del deserto del quarto secolo che sulla scia di Sant'Antonio a Bate cominciano a vivere questa battaglia interiore e diventano dei giganti per capire un po' la struttura della vita interiore e sono dei precursori anche straordinari sotto il punto di vista della psicologia umana tante cose che poi noi solamente recentemente con la psicodinamica con le scienze appunto che hanno tentato con le loro teorie di spiegare i movimenti profondi e l'intimo vengono scandagliate analizzate visitate da questi padri del deserto e ce n'è uno tu ne esamini uno in particolare uno in particolare sì che è Evagrio Pontico il quale è un uomo dalla storia un po' particolare cioè lui vive una vita da da studioso da maestro così e a un dato momento sente l'esigenza dopo aver stato allievo di grandissimi maestri come San Basilio il Grande San Giovanni Crisostomo di lasciare tutto e andare sulla scia appunto di questi monaci che andavano nel deserto a combattere la battaglia interiore sono degli asceti degli esicasti cioè cercano la pace e vanno lì appunto e lì nel combattimento sviluppano una conoscenza del profondo dell'uomo straordinaria e scrivono lasciano scritte le loro intuizioni e si scrivono fra di loro si mandano dei testi che sono emblematici e diventano fondamento un pochino della struttura della vita spirituale della conoscenza della struttura della vita spirituale che noi cristiani abbiamo questi sono orientali sono un patrimonio tipico della chiesa orientale ma noi occidentali abbiamo sempre attinto da loro se pensiamo semplicemente che San Benetto da Norcia quando va a iniziare l'avventura del monachesimo occidentale due secoli più tardi in realtà sfrutta e saccheggia abbondantemente la sapienza di questi monaci Evaglio è il primo che sistematizza i capitoli fondamentali dell'inganno interiore negli otto logismoi cioè gli otto pensieri noi in occidente sistematizzeremo con Gregorio Magno nei sette peccati capitali sette vizi capitali che sono i capitoli del vizio cioè il vizio cioè l'uomo può viziarsi può prendere una stortura può prendere una cattiva postura e questo noi lo abbiamo sistematizzato in sette argomenti però c'è anche una sorta di sovrapposizione fra questi sette vizi capitali e gli otto pensieri assolutamente sì no la differenza consiste nel fatto che ce n'è uno che sparisce nel nostro elenco mentre nell'elenco orientale quello di Evaglio Ponti che per primo lo compila e da quello tutti gli altri poi prenderanno ne abbiamo uno in meno che è la tristezza giusto? che è la tristezza grande male di questo secolo grande male di questo secolo di tutti i secoli in realtà ma questo secolo è particolarmente vulnerabile proprio perché è un secolo tendente al narcisismo tendente alla sovra attenzione centrata proprio sul proprio movimento interiore noi siamo gente che vive una una ossessione per se stessi per se stessi e questa cosa ci porta a inucleare ancora di più questa difficoltà a prendere bene la vita diciamo così la tristezza non è la mancanza di buon carattere non è la mancanza di atteggiamento positivo no perché noi non ce l'abbiamo nell'occidente perché in occidente noi esaminiamo i vizi cioè analizziamo gli errori dell'uomo a valle cioè nei loro risultati mentre gli orientali analizzano a monte allora se io posso dire cos'è un peccato di superbia beh lo posso più o meno riconoscere cos'è un peccato di lussuria beh grosso modo si riconosce che cos'è un peccato di gola beh si vede si riconosce ma cos'è un peccato di tristezza è difficile da dire perché di fatto funge da motore degli altri dalla scusa per darsi il permesso di essere non so vanagloriosi o invidiosi o quello che sia noi le abbiamo inglobato dentro l'invidia e infatti l'invidia è molto alimentata dalla tristezza questo senso di competizione questo senso di ingiustizia la gioia altrui e queste cose di questo genere sono il mondo della tristezza che è un mondo molto molto devastante un mondo che agisce in diversi modi in tutte quante l'età che si trasforma una volta in un alibi una volta nel fatto di non essere ancora adeguati a un mondo più grande di noi magari quando siamo piccoli no comincia molto spesso nella idà infantile è quel momento di tristezza che un bambino prova ecco a me non mi vuole bene nessuno e si piange addosso e prova gusto nel farlo perché una delle cose grandi che devo spiegare anche nel libro fu una delle prime sorprese grandi che ho avuto come prete sono diventato prete 30 anni fa la sorpresa prima di vedermelo anche dentro questo che poi vedevo negli altri era che la gente non piace stare bene la gente piace stare male la gente piace rimestare nella propria tristezza rimestare nella propria melanconia rimestare nei propri ricordi tristi e c'è tutto questo filone della tristezza della mestizia che vende parecchio sono canzoni sono film sono io dico sempre una cosa per così comica un po' che c'è un film che chi l'ha visto si deve confessare incompreso non c'era quella cosa che noi dovevamo leggere da ragazzini sta storia di questo bambino sfortunatissimo nessuno lo capisce e tutti si identificavano ecco nessuno mi vuole bene e questa a mandare in onda questa il sapore acre di questa tristezza dava piacere e uno se lo ripete e questa tristezza che è il beccuccio del bambino è l'atteggiamento diciamo così piagnugolante infantile diventa rivendicazione adolescenziale per cui ecco ho sempre cioè è il motivo in tasca per avere sempre ragione davanti ai genitori è il motivo in tasca per andare avanti anche per certe rivendicazioni poi diventa rabbia giovanile e poi diventa amarezza adulta e ci sono certi adulti a Roma si dice certe pentole dei fagioli cioè i fagioli quando bollono borbottano ci sono certi certi anziani che borbottano la mattina la sera stanno sempre lamentando e quella è la tristezza però Don Fabio scusa mi ha analizzato il problema abbiamo capito ecco un po' abbiamo un po' di confidenza con i vizi i vizi i capitali abbiamo capito un po' la tristezza però a questo punto arriva l'azione cioè che possiamo fare io per dirti ti dico una cosa e quest'anno ognuno fa i buoni propositi il mio proposito di quest'anno era sorridere di più e di questo ne è venuto fuori una cosa assurda che tipo a un certo punto sto facendo la spesa mi ricordo del mio buon proposito ecco lì che comincia a sorridere ma non funziona tanto bene diciamo che non è proprio del tutto sbagliato questo tipo di approccio di fatto infatti nel libro per ogni pensiero maligno perché bisogna appunto capire da dove parte questa roba cioè qual è l'origine perché se non tappiamo la falla possiamo tirare fuori l'acqua dalla barca quanto ci pare ma tanto l'acqua continua ad entrare dobbiamo trovare la falla infatti la sfida del libro è arrivare a identificare l'origine nel nostro cuore di questi pensieri maligni e tutta la loro distruttività bisogna sempre vedere il contrario qual è il pensiero contrario qual è l'origine buona cioè a che sorgente dobbiamo attaccarci per trovare anche la strada buona e uscire da questi incastri che tante volte ci schiavizzano ecco per esempio il contrario della tristezza evidentemente secondo Valerico Pontico è la gioia ed è curioso che la gioia in San Paolo non è uno stato d'animo che ti capita perché noi pensiamo così noi siamo molto spontaneisti fra virgolette in questa epoca cioè pensiamo che le cose ci capita di provarle no le cose ci si apre si scelgono dice la lettera ai filippesi rallegratevi nel Signore sempre ve lo ripeto ancora rallegratevi la vostra affabilità sia nota a tutti e cioè usa un imperativo ma come ci si può ci si può rallegrare per imperativo sembra un'assurdità sembra una cosa un po' non so un po' clericale chiedo scateniamo la gioia dobbiamo essere ma che cioè poi consistente ha una sensibilità moderna un pochino un po' scafata dice ma ma che roba è questa invece no è una scelta la gioia è una scelta del cuore ci si apre o ci si chiude è rallegratevi nel Signore cioè io devo ricordare sempre che c'è una porta che apro il mio cuore che è la porta che apro alla speranza la porta che apro al bene e in fondo è come se in ogni fatto della nostra vita ci sia sempre una linea di luce una linea di tenebra diceva Pascal nel mondo c'è abbastanza luce per chi vuole vedere e abbastanza tenebra per chi non vuole vedere ed è interessante questo cioè c'è sempre come dire da aprirsi cioè è un'opzione del cuore uno si apre alla gioia e la gioia arriva e questo è confortante in un certo senso certo cioè in ogni momento della nostra vita anche quello più buio e se sfogliamo se vediamo questi otto pensieri se pensiamo anche ai vizi capitali eccetera io penso che ognuno di noi insomma si possa facilmente ritrovare in uno o più di essi però abbiamo c'è un sistema c'è una luce che riesce che è sempre di pronta e in questo siamo a noi certo è difficile farlo come scelta individuale però è è proprio quello che possiamo fare noi in prima persona assolutamente sì è una grazia da accogliere è un regalo che Dio offre che è nel profondo del nostro cuore cioè la luce c'è sempre nel fondo del cuore la puoi trovare anche nelle persone più più contorte più degenerate la luce c'è sempre come purtroppo la tenebra c'è sempre in noi c'è sempre un'origine una una falla di male e un'entrata del bene sempre e bisogna un po' rinvenire la falla buona che c'è nel nostro cuore il luogo la sorgente della luce sempre rinvenirla è importante appunto infatti nella prima parte del libro cerco un po' di spiegare globalmente il combattimento spirituale come funziona e veniamo un po' a spiegare cos'è l'origine di tutto l'origine di tutto è la grazia la gratuità la grazia della vita la grazia della creazione il fatto che la vita è una cosa bella per sua natura essere vivi è una cosa importante e bella tante volte è proprio lì che veniamo attaccati iniziamo a dubitare che sia bello essere vivi tanti giovani oggi dubitano della bellezza della propria vita io che devo costantemente combattere diciamo così con questo tipo di fauna cioè i giovani hanno una tendenza a pensare male di se stessi ecco questo pensare bene della propria esistenza pensare bene della propria preziosità questo è fondamentale dall'altra parte appunto nella prima parte del libro è importante questa spiegazione introduttoria c'è quello che i greci chiamano filautia cioè quello che noi chiamavamo un tempo l'amor proprio che oggi diciamo così questo è un termine che non sappiamo ben spiegare e un padre della chiesa lo definisce splendidamente l'amore di sé contro se stessi cioè è un amore di me che mi distrugge è un narcisismo che non fa il mio interesse ma mi incastra mi rovina mi degenera ed è lì appunto e la sua radice è la paura la paura per noi stessi la matrice allarmata del nostro cuore la tendenza del nostro cuore a come dire a temere per la propria incolumità ci porta a fare atti di autoprotezione disordinati e devastanti e tante volte questi diventano appunto i vari peccati di autoappagamento di autoaffermazione che diventano le tragedie delle nostre relazioni le tragedie della nostra autogestione Don Fabio questo libro l'arte della buona battaglia arriva anche diciamo in un momento della tua vita in cui tu hai deciso di metterti giù lì e scrivere come consigliare agli altri un'arte della buona battaglia ma anche io immagino chiunque scriva un libro mette qualcosa di sé all'interno di questo libro tanto tanto soprattutto tanto della mia avventura come sacerdote tanto di quello che ho dovuto imparare e praticare nel tempo in cui dovevo accompagnare tanti ragazzi nella nello sbocciare nel diventare se stessi nel diventare belli nel diventare la cosa bella che sono l'opera di Dio che sono sì diciamo questo viene come terzo di una trilogia che io ho scritto a seguito di un'esperienza diciamo sì di accompagnamento dei ragazzi il primo libro fu l'arte di ricominciare che era ripercorrere i sei giorni della creazione per ripartire dopo un azzeramento ripartire dopo un errore ripartire dopo un momento distruttivo come fare quale protocollo seguire e un po' gli studi pubblici mi davano contezza del fatto che la Genesi il primo capitolo della Genesi non viene scritto all'inizio ma a un dato momento della storia di Israele è proprio un precipitato della sapienza di Israele su come si ricomincia qual è lo schema della realtà come si torna a essere fedeli al proprio DNA in questo momento è un aspetto molto importante poi ho dovuto tante volte affrontare il tema della guarigione del cuore e così ho scritto un secondo libro l'arte di guarire che e ripercorrendo le tappe di una storia di guarigione che è la storia dell'emorroissa che tocca il mantello di Gesù che guarisce ripercorrendo entrando nelle pieghe sapienti e profondissime di quella storia ho enucleato un po' un protocollo di guarigione fruibile e anche che sperimentato diciamo in pratica con i ragazzi facendo con loro questo e poi è arrivato questo libro che è frutto di un tempo di predicazione vissuto con tanti giovani e anche tanti adulti dove bisognava spiegare un po' va bene una volta che io ho ricominciato una volta che sono guarito ma qual è il quotidiano di questa vita cioè l'assetto non perdersi come restare in una vita adulta bella ecco peraltro il libro sorge anche da questo tipo di necessità negli studi dei sacerdoti cioè nella ratio studiorum dei preti c'è pochissimo addestramento a questo tipo di argomenti questo tipo di argomenti non sono infatti sono i sacerdoti quelli che mi ringraziano di più è bella la parola addestramento perché ci dà molto l'idea anche della quotidianità della fatica che uno fa nella quotidianità ma anche nel percorso che uno compie per andare da una parte all'altra noi vediamo nella copertina di questo libro scritti gli otto pensieri maligni ce l'hai descritto e ce ne hai parlato ma c'è sono due parole prima di quelli che è la libertà interiore molte volte come il pensiero ad esempio sul mondo cattolico eccetera su Dio stesso ci suggerisce magari un'idea antica di un premio punizione insomma di quel padre che ti dice che quelli sono i vizi per cui non devi farli in realtà il percorso che viene indicato e che tu esamini anche rispetto a Evaglio Pontico è proprio questo tutto ciò che condiziona la nostra vita e che ci permette una volta individuato una volta tappata quella falla di cui ci parli di trovare e di trovare ogni giorno perché poi insomma non è un qualcosa dato per sempre una libertà interiore che ci consente di essere noi stessi di essere autentici rispetto a quel DNA che abbiamo sì si tratta della libertà dei figli di Dio cioè di vivere da principi e non da sguatteri sguatteri delle punzioni disordinate sguatteri di quella paura profonda che appunto è collegata dalla filautia qui si tratta un po' anche di capire un diverso modo di approcciare una diversa postura di fronte alla vita spirituale perché la realtà è questa noi abbiamo offerto di fronte ai vizi questo tipo di strategia un vizio è una cosa brutta e allora bisogna smettere e allora uno deve semplicemente opporsi al vizio punto e basta non lo fare col dito non lo fare così no? ecco ma questa è una tecnica non solo brutta ma anche fallimentare cioè non funziona il moralismo da che mondo è mondo non è solamente brutto è inutile non riesce cioè come fa uno a tenere nelle briglie qualcosa che è in realtà una produzione dovrà combattere contro se stesso con una forma vagamente di scissione di emiplegia spirituale il discorso è che di fatto noi più o meno abbiamo pensato alla fine che il combattimento spirituale è una sorta di castrazione una sorta di negazione di strozzamento delle pulsioni ma qui invece bisogna andare all'origine delle pulsioni perché se io sono viziato vuol dire che ho l'abitudine a fare una certa cosa diceva San Tommaso che la ripetizione di un atto dà l'abitudine a un atto se l'atto è buono è un vizio se l'atto è buono è una virtù se l'atto è cattivo è un vizio cioè la ripetizione di un atto mi dà l'abitudine l'abitus ma come faccio a combattere un abitus semplicemente con la negazione noi abbiamo posto la negazione al male abbiamo posto no questo non si fa ma io non ci riesco e come dice San Paolo nel capitolo 7 della lettera ai romani io non faccio il bene che voglio ma il male che non voglio una cosa non la voglio fare e poi finisco per farla lo stesso proprio perché magari la negazione concentra la mia attenzione proprio sul peccato concentra la mia attenzione proprio sulla cosa che io cerco di non fare e sarò sempre a pensare a quella a una forma nevrastenica di andare avanti cioè questo produrrà nevrosi comunque scissioni comunque è una battaglia che produrrà anche disastri che sono anche scandalosi inaccettabili no? qui si tratta all'origine di tornare all'autenticità cioè la verità dell'uomo non è il male la verità dell'uomo è il bene l'uomo non è vero quando fa del male ma quando ama quando ama tira fuori se stesso è se stesso fino in fondo ecco tornare a quella origine non è un processo di castrazione ma di di crescita di autentificazione cioè di verità il problema non è che l'opposto dei peccati è una cosa giusta l'opposto dei peccati è la verità i peccati sono secondo l'etimologia della parola greca hamartia o anche in ebraico atta vuol dire fallire il bersaglio andare fuori mira percepire come il male non è la verità non è la nostra la pienezza è fondamentale e quindi bisogna riscoprire la nostra pienezza la nostra verità tornare fedeli alla nostra bellezza è il vero combattimento e questo ci aiuta anche diciamo avere una base un bagaglio che ci portiamo dietro che poi è quello della fede e dell'essere diciamo noi specchio di quella grazia Don Fabio torni a trovarci una volta volete sì volentieri noi lo ricordiamo per il momento l'arte della buona battaglia edito da San Paolo di Don Fabio Rosini grazie per essere stato con noi stamattina e averci accompagnato in quelle piccole battaglie o grandi battaglie quotidiane che ognuno di noi qui e a casa affrontiamo grazie grazie a voi grazie Don Fabio noi andiamo in pubblicità ci si rivede fra poco torna Mario Incudine in questo studio quindi scaldatele e ugole pubblicità nella settimana di Sanremo nel giorno del compleanno di TV2000 noi potevamo farci mancare la musica quella bella fatta dai nostri amici Mario Incudine buongiorno ma buongiorno 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 a voi sono felicissimo di essere a festeggiare con voi questo venticinquesimo questo traguardo bellissimo sono davvero contento e noi siamo felici che tu sei qua con noi anche per festeggiare te perché te ci porti i palcoscenici ci porti la musica ci porti tante storie e c'è una storia in particolare una storia antica ma che ritorna sempre diciamo viva ai giorni nostri che è quella di Barbarlo noi ti vediamo con la Barbarlo non credere che non ti vediamo è blu però vedi che è bello TV2000 fa anche questo effetto fa trasformare mi sono trasformato in Barbarlo di prima mattina sì Barbarlo è una favola antica che però è stata riscritta da Costanza di Quattro e che è stata portata in scena con la regia di Moniovadia e che è in scena ancora fino a domenica al Teatro Vittoria di Roma ed è una favola veramente noir perché Barbarlo non è solamente un personaggio delle favole è un personaggio realmente esistito è da qui che Costanza parte per riscrivere la storia parte proprio da Gilles Deray che era un condottiero di Giovanna d'Arco e che fu accusato di tantissime violenze questo personaggio tra favola e storiografia lo portiamo in palcoscenico ed è bellissimo vedere come il pubblico si divide è uno spettacolo che crea un po' di di divisione perché qualcuno lo vuole addirittura perdonare qualcuno magari potrebbe addirittura provare un senso di pietà ma qualcuno invece se ne distacca totalmente questo perché forse un po' di barbablu c'è dentro ognuno di noi e basta riconoscere questa questa piccola parte nera per poterla allontanare definitivamente guarda neanche a farla apposta ne parlavamo giusto due minuti fa con Don Fabio Rosini l'ospite di prima che dice che in ognuno di noi comunque c'è quella tendenza quella possibilità di lasciare che il male entri e poi ecco ci renda blu ci renda brutti ci renda tu in questo spettacolo tra l'altro ti cimenti non solo con il canto ma anche con la recitazione è uno spettacolo complesso ma diciamo altrettanto bello è complesso faticoso perché sono è un'ora e dieci di parole e canzoni e musica ma soprattutto è faticoso perché entro dentro un altro personaggio che è totalmente opposto a me come sono nella vita per cui riuscire a entrare dentro questa mostruosità dentro questa psicologia perché Barba Blu non vuole solamente il possesso fisico delle donne che dice di amare e che poi uccide ma ne vuole il possesso totale totalizzante vuole il possesso dei pensieri delle azioni dei sentimenti ed è lì che la violenza diventa assoluta perché non solo le violenta fisicamente poi le uccide ma le priva della libertà del pensiero ed è uno spettacolo come dicevi tu molto particolare gotico e ha un sapore veramente chiaroscuro ed è uno spettacolo da vedere perché c'è una morale e la morale è molto cristiana Barba Blu chiude con una battuta che è bellissima dice ancora oggi che sono all'inferno e brucio giorno dopo giorno e per l'eternità ho assunto una sola unica certezza che la giustizia di Dio segue un corso diverso il corso giusto della verità e allora se è da vedere Mario noi la vogliamo vedere e allora ti chiedo di raggiungere Antonio Vasta che è già lì che ti aspetta poi l'istrumentista pronto ad accogliere e noi siamo pronti a sentire la canzone di Barba Blu Mario Incudine alle nove del mattino di un piovoso mercoledì 26 ottobre 1440 i battenti della cattedrale di Nantes si aprirono per lasciare uscire un imponente corteo sembrava una sacra processione solenne vescovo con tanto di mitra e pastorale seguito dai canonici del capitolo sacerdoti novizi chierichetti e tutta una folla di popolani salivo al patibolo all'età di 36 anni dopo aver vissuto freneticamente una vita folle mostruosa e sadica sono stato tutto il contrario di tutto ne ho uccisi molti moltissimi un numero infinito sette volte sette diventai ben presto il mostro per tutti Barba Blu sette i sospiri che ho violentato quattordici gli anni che mi hanno rubato venti le stati di cielo sereno una la notte che ho amato il suo seno ventotto grido tramura di piu trentacinque finestre lontane dal mondo quaranta bambine più due segregate sette soltanto le donne che ho amate cinquanta gendarmi vestiti di scherno sei angeli neri verso l'inferno sessanta tre madri coi occhi di ghiaccio settanta ferite sferrate dal braccio sette le lacrime che ho da versare quattordici gli occhi mi fanno vegliare venti le stati di cielo sereno una la notte che ho amato il suo seno sette le lacrime che ho da versare quattordici gli occhi mi fanno vegliare venti le stati di cielo sereno una la notte che ho amato il suo seno ventotto catene che mi hanno legato 42 corpi di cui ho abusato 20 più 5 le spudi sul viso 7 fanciulle per un solo sorriso 50 giardini di rosse ferite 60 giardini di rose appassite 3 le misure di questa follia 70 preghiere per l'anima mia 7 le ciocche strappate alla morte in 7 cassetti nascondo la sorte 20 le porte serrate dal ferro 1 la chiave verso l'eterno 28 gabine di porfido nero 35 cappelle e un cimitero 42 gonne piegate al dolore 7 le prove di questo mio amore grazie venite venite Mario Incudine Antonio Vazza prego prego raggiungeteci al centro e anche tu Antonio venite venite ricordiamo lo spettacolo siete in scena al teatro Vittoria qui a Roma fino al 12 di febbraio e poi ancora un tour e poi andiamo a Trieste 14 e 15 al teatro Rossetti di Trieste poi il 24 al teatro comunale di Atri e il 25 e il 26 al teatro San Nazaro di Napoli allora rimanete qua un attimo anzi avvicinatevi così facciamo spazio venite 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 ai nostri prossimi ospiti facciamo così vi mettete in mezzo è una giornata venite venite speciale anzi vogliamo fare una cosa andiamo un po' anche questi sgabelli facciamo largo perché così grande è largo è il cuore di TV 2000 lo è stato per 25 anni continuerà a essere sarà per altri 25 anni vediamo di più di più allora chiamiamo Massimo Porfiri amministratore delegato TV 2000 e in un certo momento ben arrivati ben trovati TV 2000 TV 2000 buongiorno buongiorno tanti auguri tanti auguri auguri a TV 2000 grazie ma allora iniziamo dal direttore Porfiri 25 anni 25 anni fa nasceva questa avventura bellissima che coinvolge in qualche modo tutti quanti noi qui e soprattutto quelli che stanno a casa che sono stati questi primi 25 anni facciamo mezzo passo avanti così siamo un pochino più in luce prego ma innanzitutto per me erano 25 chili fa quindi questa cosa è vero siamo diventati grandi anche un pochino più grossi ma io ho una grande emozione perché c'ero già 25 anni fa un po' più dietro le quinte e veder crescere la televisione veder crescere le persone veder crescere il rapporto tra le persone le relazioni tra le persone e la relazione della TV con il nostro paese con le chiese che sono in Italia è una grande soddisfazione lo posso dire una grande emozione è una grande soddisfazione e l'occhio lo vogliamo rivolgere direttore verso il futuro quindi noi siamo arrivati sul crinale dei 25 che cosa ci aspetta che cosa aspetta il nostro pubblico questa è una tappa importante ma il traguardo non l'abbiamo ancora raggiunto ci aspettano 25 anni e anche di più di impegno di sperimentazione di servizio di nuovi linguaggi ormai siamo una media company questa non è più una televisione è una televisione ma non è soltanto una televisione abbiamo una radio che non è soltanto più una radio quindi davvero nuovi linguaggi nuova voglia di accompagnare il nostro pubblico di essere accanto sempre col nostro stile quella della sobrietà dell'eleganza dell'attenzione ai contenuti come è il nostro claim autentici per vocazione stanno anche scorrendo le immagini che ci riportano indietro nel tempo a quando ancora le persone a casa sappiate che continuano a chiamarla la SAT 2000 come nasceva anche i tassisti quando ci accompagnano qua dicono SAT 2000 però sarà veramente una festa da vivere insieme che giornata ci aspetta oggi? c'è una giornata come ho detto nel segno della sobrietà non può lasciarci indifferente quanto sta accadendo attorno a noi nel mondo però con una gioia nel cuore con la gratitudine per quanti hanno lavorato fin dall'inizio in questa televisione per quanti l'hanno guidata e come diceva il nostro amministratore delegato per quanti ancora ci siamo e ci siete qui c'è l'espressione di una professionalità altissima di un impegno serio e di tanta tanta passione e quindi per noi è giorno di gratitudine e di gioia allora se deve essere giorno di gioia visto che abbiamo qua a portata di mano Mario Incudine e Antonio Vasta ma vi possiamo chiedere che ne so un tanti auguri un tanti auguri siamo davvero fortunati oggi ad avere il maestro Incudine tanti auguri a voi tanti auguri a noi tanti auguri TV 2000 tanti auguri a voi grazie grazie a maestro Incudine grazie grazie a voi auguri auguri a tutti quanti quelli che stanno dietro le telecamere e quelli che stanno a casa che ci hanno accompagnato in questi 25 anni ci sono tanti di loro che hanno iniziato 25 anni passi e rimanete con noi anche perché vi aspettano tante sorprese e tante belle cose chiudiamo le porte di Buon Mattino per Sparancare naturalmente quelle del mio medico con Monica e con Faviola a voi grazie a tutti